pistola p38 della denix interamente fabbricata in spagna tutta in metallo guancetti in polimero nero loghi realmente incisi su tutta l'arma finiture eccellenti brunitura perfetta funzionamento dell'arma scarrellamento come l'originale simulazione di sparo tutte queste pistole hanno ovviamente l'occlusione come da legge della parte anteriore che non va assolutamente rimossa la pistola non è assolutamente smontabile non va per cui smontata va utilizzata solo in questa maniera non spara e non emette nessun rumore libera vendita libera detenzione